Movida Loca Television Agriturismo La Cascina Rocca Reino a Napoli il grande ritorno dopo la meravigliosa Pasquetta con la band sono ritornato insieme al mio gruppo di Movida Loca Television perché lo spettacolo oggi ha un tocco diverso e se tutto fosse fatto a Napoli ve lo dico io, parte dall'Agriturismo La Cascina Rocca Reino a Napoli Movida Loca Television 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 e termina qui questo appuntamento ringraziando Carmine Bosso alla Camera Floriana Stia all'ufficio stampa ma soprattutto voi che siete stati lì comodi comodi a guardare Movida Loca Television per la tua pubblicità su Movida Loca Television per la tua pubblicità su Movida Loca Television